Conferenza pre-partita più tranquilla del previsto per il basket Barcellona dopo la lieta notizia del pagamento della rata FIP che in questi giorni aveva tenuto banco tra gli amanti della palla spicchi barcellonesi. Alla vigile dell'incontro con Mantova, coach Perdichizi accompagnato da Simone Fiorito spiega come la squadra ha vissuto la sua settimana di lavoro con la spada di Damocle dell'esclusione dal campionato sulla testa e mette i suoi in guardia da Mantova. Per quanto riguarda la squadra ci siamo allenati, stiamo stati un po' al riparo da queste situazioni anche se i rumori si sentono, però noi abbiamo creduto sempre in quello che facciamo, nel lavoro che facciamo. Ci siamo allenati costantemente durante la settimana, al solito lavorando a patti per gran parte di questa settimana per preparare meglio la partita contro Mantova. Mantova di neopromossa o di matricola ha conservato pochissimo, innanzitutto ha dato la guida del management a Sandro Santoro che ricordiamo tutti i quattro anni trascorsi qui a Barcellona quando lo consigliai all'allora presidente Bonina di puntare direttamente su di lui e poi, fatto questo, Mantova ha una squadra che come Mantova è neopromossa o matricola in questo campionato, ma sicuramente non come roster. Il nostro pensiero non è stato tanto all'esterno ma è stato rivolto verso di noi, verso la nostra crescita che possiamo fare e ci stiamo secondo me unendo e compattando sempre di più e quindi questo credo che si veda in campo e spero che a partire da domenica si veda sempre di più e quindi anche la panchina comunque penso che sia molto utile alla causa e spero che continui così.